L'Abruzzo sul fronte dell'energia è una delle regioni che risulta più avanti nel cammino verso la riconversione energetica, producendo dalle rinnovabili il 26,6% del suo fabbisogno, risultando così la settima regione in Italia. L'Abruzzo è poi quarto per l'idroelettrico e quinto per numero di pannelli fotovoltaici rispetto agli abitanti, resta in top 10 con l'ottavo posto anche per la potenza installata di eolico. Sotto la media il fabbisogno di gas metano, che copre solo il 30,6%. A certificarlo sono i dati contenuti nell'ultimo report dell'ufficio di statistica della regione Abruzzo. I dati restano comunque una notizia positiva, considerando che il 40% di gas viene fornito all'Italia dalla Russia. I dati sulla produzione di energia rinnovabile sono stati al centro, nei giorni scorsi, del convegno Energy for the Future, organizzato dall'Agenzia regionale Attività Produttive. Nel ruolo di braccio operativo della regione Abruzzo, con al centro le opportunità offerte dalla tecnologia dell'idrogeno verde, che consente di immagazzinare, stoccare e rendere fruibile l'energia prodotta da fotovoltaico, eolico e idroelettrico, con zero emissioni e in prospettiva a prezzi competitivi per imprese e famiglie. L'Arap è pronta ad estendere le sue competenze anche nelle aree di insediamento industriale dei comuni ricompresi nelle zone economiche speciali abruzzesi, che potranno dunque essere, anche loro, protagoniste della creazione della filiera regionale dell'idrogeno verde. Così il direttore generale dell'Arap, Antonio Morgante, in seguito ai lavori del convegno internazionale. Tornando al report, l'Abruzzo ha consumato, tra sporti esclusi, 2448 kilotep, unità di misura dell'energia che esprime la tonnellata equivalente di petrolio. Si tratta di energia per i riscaldamenti e per l'elettricità, sia per le case che per le attività produttive. Per raggiungere questa cifra, l'Abruzzo ha dovuto attingere per il 30,6% del gas naturale, per il 28,1% dal petrolio e dai loro derivati. Per il 26,6% invece dalle energie rinnovabili, mentre per il 14,6% da altre fonti. Da evidenziare anche il dato dell'energia rinnovabile, la regione infatti è sopra la media italiana del 17,1% e l'Abruzzo, che fra le regioni del centro-sud ha la maggiore potenza installata per l'idroelettrico, è sesta nella graduatoria nazionale e quarta per potenza rapportata a 10.000 abitanti.